Il comune di Civitella del Tronto si rifà il look ed investe circa 3 milioni di euro per una serie di opere pubbliche che interesseranno il centro storico, le frazioni, diversi manti stradali, ma anche la scuola elementare di Favale. Si tratta di opere di assoluta importanza, nel complesso sono circa 3 milioni di euro di opere, sicuramente in un periodo di ristrettezze economiche per i comuni, insomma, è un forte segnale alla nostra popolazione. Stiamo realizzando la nuova scuola elementare in località Favale, speriamo di completare i lavori prima di settembre per far ritornare gli alunni nella nuova sede scolastica, una sede sicuramente di grande importanza, sicuramente molto molto bella. Stiamo lavorando su diverse strade per rifare il manto stradale, dovremo cominciare i lavori di sistemazione del Palazzo Portici a Civitella nella piazza principale dopo l'estate e poi ancora tutta quanta un'altra serie di opere pubbliche molto importanti, fra cui anche Villa Passo e anche Ponzano, dove stiamo ristrutturando degli edifici di proprietà comunale che verranno adibiti ad alloggi e poi, insomma, ripeto, tutta una serie di opere e un'attenzione particolare anche e soprattutto per le frazioni perché, insomma, è lì che dovremo concentrare ancora di più i nostri sforzi. Dico questo anche in un periodo di grave ristrettezze economiche per gli enti, insomma, credo che Civitella vada un po' in controtendenza rispetto agli altri comuni. Sono ancora in programma ulteriori opere per un totale complessivo di circa 5 milioni di opere che speriamo di completare entro il 2013.